Ho letto che per il matematico Fantapie il principio di sintropia può dedursi dalle equazioni della fisica e può spiegare fenomeni mossi da una causa finale situata nel futuro. Secondo Fantapie questi fenomeni portano a un progressivo ordine a differenza dei fenomeni fisici che per i più sono governati dal principio di entropia che crea disordine e ha la sua causa situata nel passato. E così anche per voi? Certamente se per sintropia si intende una sempre maggiore evoluzione è che tutto procede sempre e comunque per il meglio. Ho letto che per il matematico Fantapie il principio di sintropia può dedursi dalle equazioni della fisica e può spiegare fenomeni mossi da una causa finale situata nel futuro. Secondo Fantapie questi fenomeni portano a un progressivo ordine a differenza dei fenomeni fisici che per i più sono governati dal principio di entropia che crea disordine e ha la sua causa situata nel passato. E così anche per voi? Certamente se per sintropia si intende una sempre maggiore evoluzione è che tutto procede sempre e comunque per il meglio.